Quando tu ritorni al governo di una città complessa come la nostra, capita che nella tipissima delle regole ci siano reazioni da parte di chi non vuole essere, non vuole che questa città sia governata per le regole rispetto civile, insomma per tutta una serie di situazioni. Seconda aggressione all'auto privata del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, secondo episodio vandalico ai danni del Nissan Micra del primo cittadino putiolano in poco più di una settimana. Stessa dinamica, vetro di un finestrino mandato in frontumi con un sasso e nessun oggetto rubato all'interno dell'auto. E se nel primo caso lo stesso sindaco non aveva denunciato l'accaduto pensando ad un gesto incivile e senza valore, il ripetersi dell'aggressione all'auto parcheggiata dinanzi alla sua abitazione si connota di un preciso significato. Io al primo episodio non ci ho dato peso, al secondo episodio insomma rimaniamo sereni con mia amministrazione, anzi fra sabato e domenica ho un modo di pensare che se su alcune questioni, iniziative, ho deciso di andare gradualmente, stamattina farò una riunione con i miei dirigenti e con l'assessore accelererà al massimo alcune vicende di ripristino di regole sul territorio. Un monito dunque al primo cittadino che ritiene di aver messo in campo una politica fastidiosa ad alcuni che hanno preso di mira la sua privacy. Gesti che se non destano preoccupazioni al sindaco Fioria svelano un preciso intento intimidatorio, come ipotizzano anche i carabinieri giunti sul posto, allertati dalla denuncia doverosa esposta dal sindaco a seguito di questo secondo episodio. Numerose le attestazioni di solidarietà da parte dell'amministrazione locale e degli altri comuni flegrei, anche di opposto colore politico, ma soprattutto le dimostrazioni di affetto e vicinanza da parte della cittadinanza putiolana. Ho avverto sulle mie spalle che la città è con me e quindi sono ancora più spronato, non determinato a perseguire la strada e il programma elettorale che questa città ha come obiettivo. E messo da parte lo spiacevole episodio, il sindaco putiolano ieri si è dedicato all'accoglienza della cancelliera tedesca Merkel in visita a Pozzuoli insieme al marito. Per lei un tour privato del rione Terra, una passeggiata tra i vicoli putiolani ed un caffè in riva al porto, in una domenica delle palme assolata, attendendo il traghetto che la condotta ischia, dove trascorrerà le vacanze pasquali. Vivere quasi più di un'ora con la cancelliera Merkel è un grande risultato di spot per la città, questo è fuori di dubbio. Io penso che l'apprezzamento, quello che ha visto la cancelliera Merkel rispetto alla terra, alla cattedrale, al percorso archeologico, il fatto culturale, la prospettiva, la valorizzazione, abbiamo parlato di tante cose, della disoccupazione della città. Insomma è stato un incontro positivo e ritengo che da questo incontro questa città ha le potenzialità confermate dalla stessa Merkel di valorizzare, che possa diventare una città dell'ospitalità turistica per valorizzare l'internazionalità del territorio. Imponente il servizio d'ordine messo in campo dal comune di Pozzuoli e coadiuvato dagli uomini della scorta personale della cancelliera. Ed è polemica tra gli organi di stampa locali per essere stati esclusi dalla visita al Rione Terra. Sindaco, un piccolo, non è un piccolo rammarico forse per i cittadini e soprattutto per la stampa che non hanno potuto documentare appieno questa visita così importante. Guardi, non so se ho sentito che c'è qualche polemica. A parte il fatto che io ero a casa, stavo riposando un attimino, quando ho ricevuto la telefonata da parte del comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli, che erano circa le 16, 16 e un quarto, l'arrivo della cancelliera Merkel era previsto intorno alle 17.45, il traghetto era alle 18.30. Quindi non c'era previsione, non era organizzato nulla, quindi è nato tutto a pettine. Noi dobbiamo cercare, come dire, tentiamo di mettere in campo delle azioni di far diventare questa città una città internazionale, poi queste beghe mi fanno sorridere. Non c'è stata assoluta preclusione, è nato tutto a caso, un colpo di fortuna che la città ha avuto, perché penso che io parlo a nome della città e abbiamo colto il colpo di fortuna. Non era niente preclusione, mi scuso se qualcuno ha potuto pensare il contrario, ma insomma le pettegolizze in questa città ormai dobbiamo volare alto, anche tutti i giornalisti.